Però c'è il problema del fuoco, allora mi sono detto mettiamola in acqua, no? Cioè facciamola di legno ma la mettiamo in acqua. Cioè è un'idea geniale questa. Poi si tratta di un legno rarissimo, è speciale, viene dall'Islanda e viene utilizzato principalmente per... Mi accendi? Dicevi scusa? Il legno? Sì, il legno è tutto. È un legno veramente particolare, è utilizzato per la produzione di catalini. Bella finestra. Sì, alta, anche bassa. No, una delle migliori che abbia mai provato. Mi dispiace per l'altro giorno ma dovevo andare, non sapevo come dirvelo e... E quindi niente, ho pensato magari di dirvelo in un altro momento, ecco. Non lo maggio, capisco. Però, ecco, vogliamo parlare di questa fibra? Eh, beh, è meravigliosa. Andiamo, lasciamo lì un po' di praga. Su, ha forti sollecitazioni del calore, perché non ti voglio annoiare con tutte le... No, tanto non ho capito niente. Oddio, me lo dicono anche i miei colleghi che non riesco a esprimermi. No, tanto non ho capito. No, tanto non ho capito.